Ricordare che salvare una vita è possibile imparando poche manovre alla portata del mio cuore. Manovre semplici che, comunque di noi, sarebbe in grado di fare in caso non si testimoni di un arresto cardiaco. Pochi gesti ma capaci di salvare la vita di una persona. Informiamoci insieme dal 13 al 19 ottobre, visita il sito www.settimanavivo.it